Nel corso della mattinata di ieri, nelle province di Caserta, Potenza e Salerno, i militari della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, collaborati nella fase esecutiva dei comandi arma territorialmente competenti, notificavano avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Lago Negro, nei confronti di quattro dirigenti medici e dodici infermieri ritenuti responsabili a vario titolo di omicidio colposo. L'indagine condotta dal nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina e dalla stazione di Polla è stata conseguente ad un caso di morte sospetta di un paziente affetto da disturbi psichiatrici, deceduto nel mese di marzo presso il Servizio Psichiatrico di Dianesi e Cura di Sant'Arsenio, ovvero era ricoverato. Le investigazioni hanno consentito di documentare, attraverso il sequestro delle cartelle cliniche e ai riscontri con i turni di servizio, le responsabilità delle condotte colpose ed omissive di dirigenti medici ed infermieri, tenute dalla data del ricovero della vittima a quella dell'exitus, accertare l'inosservanza delle regole elaborate dalla scienza medica, consistita nel somministrare al paziente su prescrizione dei citati medici, i farmaci sedativi misura rispettivamente superiore a 20 e a quattro volte il range terapeutico, che determinavano l'intossicazione e la conseguente morte per arresto cardiocircolatorio.